La capacità oratoria e di sintesi che Piero aveva e che manifestò fin da giovane scoprendosi questa dote oratoria parlando ai soldati nella prima guerra mondiale, difendendo dei soldati anche che rischiavano la penna di morte per episodi di diserzione da verificare. Diciamo questa capacità oratoria continua a trasmetterci una memoria di punti alti della storia della nostra Repubblica e ascoltando la sua voce, io che appunto sono sua nipote, è una persona che mi ha insegnato a leggere e a scrivere, provo un momento di commozione, ma mi domando sempre se questa commozione poi sia ancora efficace, funzioni ancora anche per le nuove generazioni, perché ovviamente non dobbiamo mai attestarci semplicemente su un patrimonio da salvaguardare e difendere in modo figé che è lì e che noi esaltiamo geograficamente. Dobbiamo verificare se in questo messaggio c'è ancora qualcosa che ci parla, che ci trasmette. Io l'ho riascoltato questo discorso e allora appunto ascoltandolo mi ha di nuovo colpito questa sottolineatura del carattere programmatico della nostra Costituzione, una Costituzione rigida ma nello stesso tempo una Costituzione presbite che parla all'avvenire che nel coniugare diritti di libertà e diritti sociali nel porsi la tematica dell'uguaglianza, della rimozione degli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra le persone in una serie di articoli. Questa Costituzione è una Costituzione ancora in parte, se vogliamo dire, incompiuta, inattuata, come Calamandrei la definiva ancora nel 55. E allora ecco, nel 55 la definiva così anche perché c'erano stati pesanti ostacoli e resistenze a attuare la Costituzione e soltanto sul volgere della fine della sua vita Calamandrei poter compiacersi che di registrare un segno di movimento e la Costituzione si è mossa con lo sblocco della questione della Corte Costituzionale. Dunque dicevo attualità del contributo di Calamandrei a 50 anni dalla sua morte, nel 2006 sarà appunto l'anniversario della sua morte, è una persona che è morta giovane, che ha vissuto la prima fase della nostra prima Repubblica con molte delusioni, con molte preoccupazioni, ma anche con molti momenti di entusiasmo. È una persona, come hanno detto Bobbio, Calante Garrona, che si è spesa molto in quegli anni quasi a recuperare anche il suo essersi, il suo essere rimasto in qualche modo appartato negli anni del 43-44 in un piccolo borgo in Umbria, ai margini di quello che era lo scontro che si stava preparando e della resistenza. Calamandrei bruciò le tappe nel recuperare questo, un senso di dovere, di tributo a quello che era stata la lotta di liberazione e fu anche grande oratore e riuscì a sistematizzare in qualche modo una memorialistica della resistenza, andandola a celebrare in borghi, in città, in luoghi dove c'erano stati ecidi, dove c'erano stati momenti di battaglia partigiana, spendendosi in discorsi, in scrittura di epigrafi. Tuttora, questo mi consola, punti di riferimento nella memoria anche giovanile. Mi è capitato recentemente di ricercare su Google l'epigrafe, l'avrai camerata Kesserling, di vedere quanto è citata anche in siti di privati cittadini, giovani e fa parte in qualche modo di una memoria storica. Queste epigrafi, questi discorsi, vennero raccolti nel 1955 in un volume curato ancora da Piero e con un'illustrazione in prima pagina di Carlo Levi che rifugurava la donna che tirava uno zoccolo ai tedeschi a Sant'Anna di Stazema, quella strage che è stata finalmente gestita a livello di processo soltanto negli ultimissimi anni. Io mi auguro che questo libro, pur in una lettura non semplicemente di memorialistica, di difesa, di memoria del passato, continui a essere un momento di stimolo per le nuove generazioni. Dicevo una rivisitazione della storia che non deve essere ageografica e per questo motivo negli anni più recenti il mio lavoro è stato anche quello di cercare di mettere a disposizione materiali inediti, più privati, diari, lettere, epistolari. In questo momento sto lavorando a un epistolario della prima guerra mondiale per meglio far luce sulla quella che fu la prima esperienza diciamo di storica in cui maturò Piero Calamandrei. L'anno scorso ho pubblicato un inedito del 50 con cui mi piace terminare il mio intervento proprio in relazione a quanto il sindaco diceva sull'articolo 11 e la sua importanza nella nostra Costituzione. Nel 50 Calamandrei avvertì come una minaccia estremamente preoccupante il lancio del programma nucleare, la decisione americana di lanciarsi nella sperimentazione della bomba atomica che diciamo concepì come prima reazione una sorta di favola fantascientifica che intitolò Fine della storia, in cui immaginava quasi precorrendo quella che fu poi l'invenzione della bomba al neutrone la possibilità di una bomba che estinguesse il genere umano e lasciasse intatto diciamo la natura, la terra, il sistema planetario. Quindi un fine del genere umano, fine della sua storia e diciamo per la corsa agli armamenti che in quel momento si vedeva lanciata e che avrebbe in qualche modo anche paralizzato e gelato i nostri primi anni 50. Calamandrei in quel momento intervenendo anche su queste tematiche, penso all'articolo che ha scritto subito dopo Hiroshima ma anche alla sua difesa di Oppenheimer quando Oppenheimer si sottrasse all'impegno atomico prefigurava insieme a Giorgio Lapira e sottolineando forse anche l'essere un po' controcorrente, l'essere fuori di quelli che erano i due blocchi in quel momento. La sua posizione particolare di rifiuto dei blocchi e di cercare una strada per l'Italia che fosse di neutralità nella prospettiva di una federazione europea. Posizione sicuramente minoritaria in quel momento, così come molte altre delle posizioni che il partito d'azione prese in quegli anni, difficoltà di spazio. Però questo testimonia una corrente profonda di pacifismo e di ricerca di una coesistenza tra i popoli che ha radici negli anni 50 e di cui abbiamo visto le prove anche negli anni più recenti in una capacità di reazione popolare, un attaccamento ai valori della pace e della collaborazione tra i popoli. Grazie. Grazie. Grazie.